Ragazzuoli, sta arrivando un bel periodo per acquistare i componenti. Si sta avvicinando a Natale e quando si avvicina a Natale c'è sempre novembre prima. E a novembre, l'ultimo venerdì del mese, c'è il Black Friday, che anzi, l'ultimo venerdì del mese, con buona probabilità, viene anticipato. Anzi, già lo sappiamo. Viene anticipato, visto che Amazon già ha dato le date, 21 novembre al 2 dicembre. Una settimana e passa di sconti. Tutti gli altri, immagino. Che state quell'anno? Perché sto video? Beh, cerchiamo di capire quali componenti andranno in sconto e quali non ci andranno mai. E quindi, con buona probabilità, conviene pure acquistarli adesso. Tanto amen! Ma maggiori dettagli a riguardo, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Su SD Hardware, su Lavide, a quale introduzione, oggi si parla di sconti. Perché sta arrivando il Black Friday. E in questo video cerchiamo un attimo di capire quali componenti quasi con certezza andranno in sconto, quali non ci andranno e quali. C'è sta un po' di dubbio. Ma, visto i precedenti eventi, insomma, uno si dà sempre un'idea. Il precedente non è così, è un po' come in borsa, no? No, lo storico di quell'azione, lo storico vale poco, però ci dà già un'indicazione. E, anzi, vedendo gli ultimi anni, più o meno i componenti, quelli so che vanno in offerta. O comunque la strategia per cui scelgono le offerte, più o meno, è la stessa. Ma prima di attaccare a parlare delle offerte che sono in arrivo, quindi una sorta di previsione, un po' di scommesse. Beh, lo sponsor di oggi. Lo sponsor di oggi è Case Fun, un sito dove potete trovare che i di Windows, Office e altri software. Grazie al Black Friday e al coupon di sconto ESS52, ci avete presente Windows 11 Pro, che sul sito della Microsoft sta a 259€, ve lo portate a casa da 27 circa, grazie al coupon ESS52, più o meno sotto i 14€. Attivare Windows poi è semplice, start sistema attivazione, cambio codice per OK, copiate quello che avete ricevuto per mail e state a posto. Potete portarvi a casa anche Office, prezzone anche qui, grazie al coupon ESS62, sempre al checkout. Lo pagate meno di 38€. Potete pagare tranquillamente con PayPalle. Ragazzi, parliamo di un sito che è su Traspilot, a 4,8 su 5. Se volete acquistare Windows Office o insomma altri software, i link di Chris Fun stanno giù in descrizione. Dato in un'occhiata. Sponsor è andato e, ragazzi, a proposito del Black Friday, se volete eseguire l'evento, vi ho detto Amazon, no? Ci sarà dal 21 di novembre, quindi già dalla mezzanotte fino al 2 dicembre, ma ci saranno anche altri siti. Mo c'è sta pure il single day e l'11 novembre su Aliexpress. Insomma, ci stanno sempre sconti. E come seguirli al meglio? Sicuramente entrando nel canale Telegram delle Offerte. Lo trovate giù in descrizione. Ci stanno un sacco di bombe già ad oggi. E giornalmente postiamo componenti, periferiche, monitor, eccetera. Ma durante l'evento facciamo un bel post riassuntivo di ogni categoria con le migliori offerte. E non con i prezzi di Amazon, ma con lo storico tracciato da noi. Sappiamo che Amazon ogni tanto se li inventa, i prezzi. E, piccola novità, sta anche arrivando un canale offerte dedicato al tech. Al momento senza post vi lascio anche quello giù nel link. Se volete iniziare a entrarci sotto Black Friday, iniziamo a postare. Anche da lì. Questo per darvi trucchetti al volo per poi andare a seguire il Black Friday. E, soprattutto, parliamo un po' di questi componenti, ragazzi. Cosa ci aspettiamo che vada in offerta? Sicuramente gli eventi passati sono un'indicazione. Ci danno comunque un'idea di quello che vedremo, se pensa. E, almeno dagli ultimi eventi, processori e schienemati, cose che non sono quasi mai andate in sconto, con buona probabilità, ci saranno. Processori, mi aspetto in sconto, tutti gli Intel Core. I 5, 7, i 9 della 14esima generazione, 13esima, e anche quei 12.000 che sono rimasti. Sul gruppone, a prezzi davvero stracciati. Mi ricordo il 14.7 che sta vendendo a 2.80, se non sbaglio, all'ultimo Black Friday o al Prime Day, comunque, prezzi davvero stracciati. I processori AMD, non lo so se i Zen 7000 andranno in sconto. Spesso c'è anche da tenere in considerazione che non tutto viene scontato su Amazon Italia. Noi sicuramente qui, ecco, sul canale posteremo anche cose che non sono su Amazon Italia, ma su Amazon Spagna, Francia, Germania. E in alcuni eventi è capitato che i processori AMD andavano in sconto su altri store, quindi non su quello Italia. Vedremo, non ci possiamo mettere mani su fuoco, quindi questa è una previsione, sicuramente gli Intel ci saranno. Sicuramente non vi aspettate 7800X3D, 9800X3D perché manca uscito, già l'hanno scalperato tutti, già è finito, ma a mio avviso anche i 3D degli M4. Perché? Perché sono lì apposta per fare mercato a sé per chi deve fare upgrade. Quindi c'hanno un loro cliente che già sono pronti, sanno che lo acquisterà prima o poi. Quindi andato tutto in sconto, di solito questa è la teoria, quello che si vende meno, ok? Quindi con buona probabilità non vedremo i 7000. Se li vedremo, magari vedremo, non so, gli X, che magari quelli della fascia più alta, 7900X e 7950X. Non so se il 7600 che è un best buy, il 7700 è liscio, li vedremo. Per quello c'è sempre Aliexpress col 7500F, 7700, a prezzoni grazie ai coupon e il single day che arriva l'11, soba. Un'altra ciliegina sulla torta, già c'è stato. Il Mega Choice Day. Per quanto riguarda le MOBO, ve lo citate e diciamo che il Black Friday scorso è ricordato per una B650 Aorus che è andata tipo a 160€ quando stava a 2,30, 2,40. Quindi possono succedere casi in cui gigabyte tasse di MSI, questi tre brand, pubblicano su Amazon, offerte davvero interessanti di MOBO. Non vi aspettate magari la top di gamma, ma sulla fascia media entry, magari ecco, una B650 Aorus a 130€ potrebbe anche esserci, o una Gaming XAX che già c'è stata a sti eventi a 150€, non la V2 perché è uscita dopo, potrebbe essere cosa davvero interessante. Non vi aspettate X870, X870E o perlomeno, secondo me, non ci saranno. Probabile invece ci siano delle MOBO Z, i socket Intel, il nuovo socket LGA 1851. Perché faccio sta scommessa? Perché ragazzi, non so se avete letto qualche notizia, ma al momento i processori Intel non sono venduti, quelli nuovi, gli Ultra, quindi Ultra 5 245K, 265K l'Ultra 7, l'Ultra 9 285K. Perché? A mio avviso, parte del problema, oltre alle performance, è tutto accosto dalla piattaforma. Quindi è probabile che, visto che MindFactory, che è uno dei strati più grandi in Germania, non ha venduto un processore nuovo di Intel, che le MOBO scendano di prezzo. Perché se scendono le MOBO scende forse anche qualcosina al processore, però ecco, tipo, cioè l'Ultra 7 non lo possiamo pagare a 500€, quindi non lo so, forse avranno anche il loro risconto? Chissà, tutto da vedere. Comunque MOBO e CPU state sotto botta che secondo me si aspettate al Black Friday risparmiate anche un bel po'. Processori, se dovete andare a AMD, difficili che risparmiate, però non se sa mai. Schede video, qui secondo me si risparmierà qualcosa e già al Prime Day ci ha dato un assaggio, 40-70 a 470€, ok, non la Super ovviamente, 7900 XT sotto i 700, ci saranno quelle schede che non si vendono perlomeno tipo la AMD, sicuramente non ci hanno mercato, oppure sono EOL, quindi sono end of life, tipo 40-70, 70 Ti liscia, 40-80, queste schede potrebbero scendere parecchio, a mio avviso, soprattutto per il Black Friday. Vediamo, l'anno scorso il Prime Day era stato meglio del Black Friday, quindi non è detto, però al Prime Day 40-70 a 470€ ci stava, 7800 XT sotto i 500€ abbondantemente, era tipo a 480 la Pulse, se non ricordo male. Quindi lato schede video, soprattutto quelle che si vendono meno, probabile ci siano, ma anche la 40-60, Prime Day 275€ ci stava. Quindi, insomma, anche le schede video, che è una cosa, ecco, MOBO, CPU e schede video, durante lo storico, prima di l'ultimo anno, barra 2, non ce sono mai andate in sconto, stanno iniziando ad andare in sconto. Al contrario, se un po' girata la frittata, SSD e RAM. Sti due stanno lentamente perdendo il loro potere. Ci ricordiamo penso tutti l'SK Pynex a 49€ da antera e manco 100 da 2tera. O comunque le RAM. È sempre stato un giorno fantastico al Black Friday o al Prime Day giorno, periodo, per comprare le memorie, ad oggi ci sono vantaggi, ma non così tanti. Tipo sulle RAM, a meno che non vediamo delle 6000 CL30 a 85€, ad oggi ci stanno costantemente delle Patriot Viper, che postiamo sul canale delle offerte, a manco 100€. Quindi ce la dovete fare un prezzone per fare un bel risparmio da Black Friday, da evento da aspettare con ansia. Lato memorie, sta perdendo potere sul Black Friday, quindi aspettarlo per le memorie? Anche no. Anche grazie a brand come Fikbut, Fangxiang, questi qui che stanno portando SSD validi a buon prezzo sul mercato, ovvio. Se arriva a Kingston e ti piazza un Fui o un KC3000 da 2tera, per esempio, a 120€, o il Tera a 75€, tutti ci corriamo appresso. Ma vediamo, 9,90€ di Samsung. Sicuramente qualche offerta ci sarà sulle memorie, non dico di no, ma non come una volta. Quindi una volta si diceva, aspettiamo il Black Friday o il Palm Day per le memorie perché ci saranno prezzi bomba. Sta cosa non vale più di tanto ad oggi. Dissipatori, togliamocelo subito. Conviene aspettare il Black Friday, a meno che non volete comprare un NZXT perché lo volete per forza? No, non c'è bisogno di aspettare il Black Friday. Ci sono i Thermalite, o comunque tanti dissipatori sul mercato che costano meno, dei brand che di solito vanno i sconti. Sono sempre i soliti, ragazzi, MSI, NZXT, Corsair. Sì, se volete quei prodotti aspettate, ma se volete fare un PC che punta rapporto qualità-prezzo potete tranquillamente non aspettare. Gli sconti, lato dissipatori. Secondo me anche lato case. Poi vedete un po' voi, sicuramente ci saranno, per esempio, gli NZXT H6 Flow, che scenderanno a sta botta sotto i 100€ perché già sono scesi a 100€ durante il Prime Day, ma ecco anche il 4000D che a mio avviso smettete di comprarlo, soprattutto a 75-80€, ma almeno che non lo mettono a 60€, ok, ma ci sono soluzioni tutti i giorni che vengono anche postate sul canale offerte, ma in generale. Fantex XT View, Fantex XT Ultra che sono tornati in stock, ma anche altri brand di case, la maggior parte ve li ho anche portati qui sul canale, testati, provati, ci ho assemblato dei build molto validi e che scostano o uguale o meno di quelli che poi vanno in sconto, quindi a prezzo scontato. E boh, valutate voi. Questo è più un consiglio, cioè nel senso dissipatori, case, abbastanza inutile aspettare il Black Friday. Al contrario, alimentatori, secondo me, ci saranno belli sconti. L'abbiamo visto al Prime Day, l'abbiamo visto al Black Friday scorso. Soprattutto con questo cambio di alimentatori con gli ATX 3.0, 3.1, che vanno in sconto apprezzarci, tra MSI, io immagino anche gli ultimi NZXT appena usciti, ma soprattutto i corsieri, ci sta le M850e, il 750e, poi i vari modelli di MSI, di solito vanno sempre in sconto e, secondo me, è un ottimo periodo quello da aspettare invece per, ecco, aspetto il Black Friday per comprare un alimentatore, con buona probabilità risparmiate. Tra le periferiche, sicuramente è da segnalare che dovete aspettare per forza, sono i monitor. Già vi ricordo che al Prime Day c'era la OC27 a 550€ OLED e, sta botta, a mio avviso, segnatevelo come previsione, ci sarà un OLED sotto i 500€ o a 500€. Mia previsione, ma vediamo. Più che altro perché stanno scendendo tanti modelli e tanti stanno scendendo, soprattutto i 27, 240Hz, già adesso a 650-700. Un OLED a 500€, credo che lo vediamo. Magari non un ultrawide, non un 4K, ma un QHD 240, molto probabile. Ci saranno sicuramente anche monitor Full HD, per chi vuole spendere poco a centoni, 100-120€. Già oggi, che sto registrando, ma non so quando pubblico il video, c'è stato un MSI 24 Rapid DPS da 180Hz a 99€. QHD, di solito, c'è LG che tira prezzi assurdi. C'è il 279Q, e non me lo ricordo la sigla, che l'anno scorso andava a 170€ al Prime Day, il 165Hz. Che oggi non esiste più come modello, c'è la versione aggiornata a 180 o 200, vediamo però. Sotto i 200€ un QHD, IPS, magari anche nano IPS, nel caso dell'EG, con buona probabilità c'è starà. Mouse, tastiere, cuffie? È un buon momento, ma come al solito qui io vi dico, soprattutto per mouse e tastiere, attenzione alle commercialate dei vari brand, Corsair e quant'altro. Cioè, tipo Fnatic, magari c'è stata la tastiera, quella compattina, la 60% che va a tirano appresso a 50€ invece di soliti 100€. In realtà, quello più o meno è il valore che dovrebbe avere normalmente quella tastiera. Poi, beh, ci saranno pure i Fnatic Bolt, come il mouse, spesso vanno in sconto. Ma secondo me le cuffie sono interessanti, perché di solito a questi eventi ci sono sempre le Sennheiser, delle Philips belle cazzute, nonché, ecco, per chi vuole magari la cuffia col microfono, perché vuole star comodo, vuole comprare una cosa sola, le Fnatic, appunto le React, che scendono sotto ai 50-40€. L'anno scorso da Amazon Spagna addirittura 25€, che per la spedizione diventavano una trentina. Best Buy assoluto. Non scordiamoci dei laptop, e anzi, come spesso succede durante, durante, prima di questi eventi, tanti prezzi si stanno aumentando, piano piano, se vedete lo storico di Kipa è tipo una cosa base. I prezzi aumentano per poi durante il Black Friday riscendere, magari anche a prezzo più basso, rispetto a quando erano iniziate a salire. Però al momento per esempio i laptop sono quasi inavvicinabili, perché tutti, e di solito quasi tutti vanno in sconto durante il Black Friday, cioè tanti modelli ci vanno, magari chi meno, chi più, stanno tutti a prezzi molto alti. Però ad oggi, ecco, comprare un laptop fermatevi per forza, a mio avviso, aspettate il Black Friday, ce ne saranno tanti perché già giornalmente comunque stanno bombe con 40-60€, tipo dei laptop magari con Ryzen 7, 7, 7, 3, 5 l'H, oppure, non so, con il 13500H, che affiancati alla 40-60€ ve li vendono a 800-850€. Che sono prezzoni? Ci sta il medium che addirittura è stato pubblicato a 7,40€. Però l'altri, nella media, stanno a prezzi troppo alti per il momento, quindi aspettare il Black Friday per acquistare un laptop sarebbe cosa buona e giusta. Target, secondo me, prendere un laptop con RTX 40-60 sotto agli 850€ e un laptop con RTX 40-70 sotto i 1300, magari 1200, 1250€. Secondo me saranno dei target possibili. Durante il Black Friday 40-80, non lo so, lì già 1700 potrebbe essere un buon prezzo, anche perché è di solito. Ci piazzano CPU come un i9, un Ultra 9, in base a che modelli prendete, anche se i laptop con gli Ultra al momento costano davvero tanto. Tante chiacchiere, ragazzi, questo per darvi un po' l'infarinata e darvi un'idea se magari è il primo Black Friday e non sapete cosa vi aspetta, ok? Magari dite no, aspetto il Black Friday perché di sicuro risparmio su tutto. Non è vero. E vi ho citato le cose che potenzialmente andranno in sconto. Potenzialmente avranno un piccolo sconto, tipo le memorie, perché ultimamente le memorie tra shortage e quant'altro, i prezzi non è che siano così scontati durante gli eventi. Ma ci sono cose che devi per forza, a mio avviso, aspettare, di cui laptop, come ho detto, ma anche i monitor, molto probabile. Processori, mob, GPU è un po' un'incognita, ma sembra che gli ultimi eventi degli sconti ci siano stati. Poi, ragazzi, utilizzate sempre Kipa, o ancora meglio, canale delle offerte che ci sta al solito post riassuntivo con le migliori offerte con gli storici veri, non quelli di Amazon che spesso si inventa a prezzi senza senso degli ultimi 30 giorni che non stanno né in cielo né in terra, o ti calcola lo sconto col prezzo MSRP di prodotti che, boh, il prezzo MSRP non ce l'hanno da anni. Purtroppo mi rendo conto di queste cose perché in automatico il bot nel canale spesso pubblica delle offerte sfruttando valori che gli passa Amazon che sono, davvero. Un po' meh. Interessante anche il canale tech, eh, per comprare televisori, telefoni, cose del genere, che sta arrivando e al momento è vuoto, però iniziate ad entrarci che durante il Black Friday spingiamo. Sì, ragazzi, il Black Friday è sicuramente un evento di sconti, ma non ignorate le offerte durante l'anno, eh, perché quando sfruttate canali offerte e quant'altro che tracciano e beccano prezzi davvero interessanti, sono interessanti e basta. Cioè, tipo il monitor che vi ho detto prima, 24 pollici, VHD, la PPS a 100 euro, cioè quello anche. Credo durante il Black Friday sarà un prezzone, quindi è importante comunque anche capire quando sono vere offerte o no e, per esempio, chi va, ma appunto anche i canali tornano utili per questo. Fate sapere che ne pensate e soprattutto cosa volete acquistare se un pitch intero per i fai che cercate un upgrade. I commenti ci stanno apposta, poi like, chat di gruppo, ricordate che entra anche lì e c'è storia di altri admin che vi possono dare la mano. E un saluto al vostro Davide e al piccolo Baby Yodo con la testa fluttuante. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!